Ciao ragazzi, noi siamo BocoGamers, io sono Zucchi E io sono Ryoza E benvenuti a questo nuovo episodio di Mai Dire RNG Siete pronti a godervi le cose più brutte, strane, tipo la partita dell'altro giorno, ma vabbè La partita di mercoledì, raga, se ve la siete persa andate a rivederla Non c'entra niente con le RNG, ma merita E vabbè, direi di non cinci schiare assai Sì, al solito vi invitiamo a passare dai nostri amici di Capitanzo Basel Dream Team su Facebook E iniziamo con Io me ne vado Io sei una persona orribile, ti stai mettendo a rivedere Ma dai, S2 Oh vabbè, uno che mette la divisa a Genzo, quella messicana, se lo merita Sì, indubbiamente, ma S2, siamo seri? Con il critico arcobaleno Sì, con Genzo S50 con il colpo vigoroso Vabbè, va Bellissimo, stupendo Non aveva neanche bloccato il legame e non era neanche l'attentato Va No, no, io, ok, maestro dei pronostici È volato Ah, allora è giusto Qual è il problema qui? Perché non capivo dall'animazione se l'avesse bloccato Sì, ma ragazzi, blocco S10, lo saprei, bloccarono S99 Ok, killer dei tiri, ma non esageriamo Ok, maestro dei pronostici prima del fix Ok, scusate È che ogni volta che mi viene in mente che hanno fixato Mi viene questa reazione Vabbè Però qua è giustizia Eh sì, giustizia Stavo leggendo Ale È giustissimo, S10 Ma dove voleva andare? Qua c'è anche Ale 93 Anche qua Qua è giusto Cioè, dove volevi andare con l'S10 Esattamente Anche qui È giusto C'è colpo vigoroso, Shinghett Quindi, anche se avete la frenetica X Con il critico arcobaleno Prende un impetto quel dribbling Interessante, grazie al colpo vigoroso Come la fence, siete lì L'unica cosa che mi dà tristezza è quel critico arcobaleno No, l'unica cosa che mi dà tristezza è la maglia che hanno messo a questo Shinghett Dai Non si fa Smettila Però è giusto Cioè, è giustissimo Cioè, non l'ha intercettata Ma sono rallentata Ha pure crittato Vabbè, io ormai ci sono abituata Ha pure crittato Il mio Takeshi non prende più una mazza così come l'Shubo Sì, vabbè, ma dai È allucinante Ormai per me è l'abitudine questa È allucinante È l'abitudine Questo è giusto, raga Questo è giusto Non ha neanche un piffero di latenza questo Higawa Giustissimo Ma sono combattuto perché questo Genzo non ha un piffero di latenza Però ha colpo vigoroso e skin più alta Nambasa dal canto suo c'ha killer di giapponesi Ha preso Ha preso il critico oro Ha tante latenze E ha buono su palla bassa Quindi, boh Eh, non lo so qua Sì, per forza dentro l'area Giro al volo C'è anche buono lui Quindi qua sono combattuto Cioè, penso che possa starci, raga Qua secondo me ci può stare Ah, qua invece Misugi si sveglia e intercetta l'S50 Vantaggio colore, skill a 70 Ma secondo me può andare, sai Ma non è neanche una ex quella skill Però S50 a 70 Ancora come rapporto ci sarà Come un S30 contro la 50 più o meno Non so C'ha anche il critico Vantaggio colore Sono combattuto E che ha poche latenze Non lo so, non lo so Ma mai nella vita Ma cosa aveva questo Gino esattamente Il critico al cobaleno Ogni tanto succede che fai il critico al cobaleno E devi per forza riuscire Ecco cosa succede ogni tanto Boh Per carità Vediamo un po' qui Bah E' senza passiva attiva in questo caso Ken Tra l'altro due latenze in croce Che saranno al massimo Roberto Secondo me ci può stare Sì Nulla da dire Il maestro dei pronostici funziona con A5 Perché non ci ho pensato prima E' che noi livelliamo le tecniche Esatto Il maestro dei pronostici funziona Se noi abbiamo le tecniche basse Papà Che roba Questo Ah beh l'intercetto che prende qualsiasi cosa No contrasto Ah un contrasto Contrasto travolgenti Ma dove va a prendere Ecco c'è Che passiva c'ha Quello Allora Allora Legame club Se quell'e viene in una full club Sarebbe dovuto passare Se non è in full club Bisogna vedere in che team è Il teatro ha uno Uno sfraccello di latenza Lo stesso Sicuriorità di skill Vantaggio al colore Sarebbe dovuto passare tranquillamente Dipende da che team Lo stava usando Se è in una club Sì Doveva passare Vediamo un po' Vedi Vedi Con la C Cioè non è neanche andato Con la S Allora Ma cos'è Abbiamo capito che I difensori Sia quelli con metodo I pronostici Che quelli normali Funzionano Con le skill Scarse Con la difesa L'angoloretto C è andato Cioè Neanche la S Ripeto Cosa le sprechiamo a fare Noi le palle nere Ma dai Col critico Tra l'altro Questo Vabbè che questo dribbling Fa pietà La verità si rinca Se ridiamo Questo è giusto Anzi Avrebbero avuto a prenderla In realtà Sì No Cioè lo 0-0-1 Ha stata alta E quindi Poi ha usato il dribbling B Va bene il colpo vigoroso Ma secondo me ci sta No ci sta Visto E niente Dai Dai Il maestro dei pronostici Funziona con le skill Basse Abbiamo capito Adesso smonto Tutti i miei giocatori Con il maestro dei pronostici Metto quelle A1 Anzi Se ne trovo addirittura La C1 Gli metto A tutti quanti Voglio vedere Delle divinità Le voglio diventare Però Cioè voglio vedere Akai che intercetta E copia d'oro S99 Con l'intercetto C1 Se esiste Per carità Vabbè No Una latenza Lì triste triste Questo Genzo Povero Genzo 0-0-1 Avrebbe dovuto Prenderla qui No Avrebbe dovuto Prendere gol Sì A 50 Contro S30 È il limite A 50 Quanto è praticamente Imparabile Con i Yukusaki Tra l'altro Genzo Senza la passiva Attiva Con una sola latenza Messa lì A casa Vabbè Genzo Chi è che ti sta Maltrattando Vieni da noi Che ti trattiamo meglio Eh Fosse venuto Un utile dreamball Che ci ho buttato A dicembre Maledetto Eeeh Qua se l'ho combattuta Perché Doveva prenderla Misugi qua Se non esiste Su Eeeh Fa schifo Sto dribbling Di Roberto Io ci passo Contro il contrasto Non passi mai Con il contrasto Eh appunto Non lo uso mai No No Ma perché Trattate tutti male A OI 97 Con Gito Questo Gito qua Che è una divinità Contro OI 97 Vorrei capire Perché Non è neanche In una full media Appunto Perché Non ho mai visto Una media Con una latenza Lì buttata Giusto per dire Che è certo Smettiamola Di maltrattare La pucce Basta Tra l'altro Contrasta A 55 Contro 1 2 A 50 E' uno scandalo Proprio Dobbiamo finire Con questa cosa Che con i contrasti Prendiamo Qualsiasi cosa E vabbè Però no A seconda Del team Potrebbe anche Starci Se non ho la passiva Full Quel Ken Lo sai Che non è Che faccia La gran Che Poi quel pugno Fa schifo Ma che si In una media È difficile C'è una sola Latenza Buttata lì Quindi secondo me Ci sta Quello Visto Visto Ritorniamo Sempre al maestro Dei pronostici Mamia Questa Sono combattuto Perché Sorimachi Fa abbastanza Schifo Non lo so Potrebbe anche Starci C'è anche Io sono Una latenza Buttata lì Anche lui La wyran È un'altra Non è che sia Questo gran Che C'ha le sue E basta A wyran Appunto Però Distance base È più alto Vediamo l'ultima E poi passiamo Ai meme Si Ma Qua doveva pararla Qua doveva pararla Appunto Non L'ha respinta Cos'è Cos'è Cioè perché L'ha respinta Non capisco Vabbè No vabbè Passiamo alle meme Ragazzi Ci vediamo subito Eccoci qua Ce l'avevamo fermati Con La mitosi Negli iphone E continuiamo Sullo stesso tema Adesso iniziamo Il gioco Trova le differenze Ma perché Fare tre Tre cose Tre obiettivi Così Messi così Più che altri Tre obiettivi Stanno anche male Ah beh Raga Vogliamo vedervi lanciare I vostri iphone Sulle piste Da bullying No E se no poi danno La colpa a noi A noi Cos'è La cucina La piazza Della serie Che se ti cade Per terra Ciao Una fotocamera È parita Sicura Ma perché Vabbè Tutta tema Iphone Questo Oh è inquietante Quando aggiungi Un'altra fotocamera Ma nessuno Compra i telefoni Vabbè Stupendo No vabbè Ma cosa Se io ce la puoi fare Il signor Barnes E vabbè Vabbè Abbiamo capito Cambiamo argomento Esatto I am ineluttable Esatto E ciao Sia Levin Che Araoi Non peraltro Questo H.E. Contro Levin Aoi Diventa una divinità E' un'altra fotocamera E' un'altra fotocamera Pian piano Siamo già A Kazami Manda in alto Incazione su base Adesso Il mio cento Siamo alzate In alto E' un forte Il mitico Gino E' in attacco Un giocatore Inedito Leonardo Rusciano Ti fa Molto bello Ma dove è gentile Bella domanda Dove è gentile Leonardo Rusciano Chi è Leonardo Rusciano Chi è Vogliamo Matteo Chi è Cos'è Perché Guarda Giovanni Rana Mi si è riconato La discussione Che calza E' uguale A Giovanni Rana Ma non è vero Cosa Non è uguale Preciso Non è vero E' uguale Non è vero Quando Il 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 tuo Avversario Ha gentile L'attente In squadra Dai Povera Aoi Lasciato Io piango Ogni volta Esatto Cioè Aoi Meno Dieci Per cento Perché Che crudeltà C'è la Giapo Blu Due A che possono Segnare Aoi Poi lo batte Gentile Quindi basta Con questi Gentile Che rompono Le scatole Ad Aoi Sì infatti Ci vorrebbe Una Oica La latente Ignora Gentile Qualunque cosa Faccia gentile La ignora Così Ok Scendiamo E Un po' Quarantena Giorno 1 Giorno 34 Fatto Le vinti A canisce Ci sta Si Gino Hernandez È famoso Per aver subito Neanche un gol Grazie alla sciomera Destra dorata Sto per far finire la carriera di quest'uomo Neanche un gol Ma da che parte È un colabrodo Quel messicano Ma basta Subasa Per far gol Old but gold Bellissimo In realtà È un'anguria Vero Giustamente Questa è per Zell Infatti L'ha mandata lui Quando il tuo avversario Assoda Latente di squadra E tu giochi Green Euro Però manca La latente Non gliel'ha aggiunta Ah ecco L'ha aggiunta qui Invece Questa poi la cancelliamo C'è già qui Perché Napone È un meno 10% È come Gentile Razzista Verso Napone E questo è il razzismo Che ci piace Mi dispiace Ma lei ha il cancro Arexiao Giusto Giusto A proposito di cancri Altri opg Che non aveva senso Rilasciare Ma Questa è un'altra storia No Questa è la storia Della mia vita Che l'ho trovato 12 volte Quando ha annato Napoleon Esatto Però c'è anche il dc Quindi Almeno Non devo piantare Ah per un sbagliato Sezione Perché Sbagliato Sbagliato Sezione Mancano le mie 500 dreamball A fare la decorazione Floreale Maledetto Yuga di Chica Lasciamo perdere Ma Quando giochi Blue Jump E becchi Napodici Vabbè Quella di Wakashimazu Non importa Io non ce l'ho Ken Dreamfest Quindi Il fatto che Abbia meno 5% fisso E che lui Abbia 15% Contro di lui I giapponesi Tanto quanto Quando trovi L'ennesimo doppione Posso passare La tecnica Certo Quando trovi Un pinggiano Zero Senza Le latenze Sei davvero Aspetta La peggior feccia Della storia Non riesco Troppo in piccolo Non riesco a leggere Siamo delle talte Ragazzi Quando giochi Blue Jump E vedi che Al DF Esce Pier Posso sempre Aspettare Già Quando è uscito Pier 2.0 E io Skip way of life Rag Quando Rio Pulla al DC Per Yuga 500 Dreamball E non trova Neanche un SSR Posso sempre Aspettare Che dormi In realtà Esatto Esattamente È stato Lo shaft Più brutto Della storia Quello La club Dice RNG Sistemata Giocatore Di capito Insomma Esatto Esattamente Già Momento Se dovessi trovare Tutti i Yuga DC disponibili Rio non avrebbe Possibilità Di trovarlo Eh Guardate Faccio benissimo Da solo Non ho bisogno Di aiuto Per non trovarlo Tranquillo Amato Che dici L'ultima Sì L'ultima Beh Giustamente Che succede Dove è E niente E niente E concludiamo Così Ci faremo Qui Speriamo Che abbiate Gradito L'RNG E la meme Di oggi La mia preferita È quella Di Rio Dentro la barra Esatto Mi vuole morto Raga No Perché era divertente Con Yuga DC E niente Prima del prossimo Fantastico episodio Di mai dire Rendejitsu Chi vi invita Seguici su tutti i nostri Profili social Che troverete Nel link In descrizione Iscrivete al nostro Salve Disco Iscrivete al canale Condividete A mettere un piaccio Attivate la campanella Supportateci Con tutte queste azioni Possete trovare Nel servizio Della cruz italiana Di Caposite Capitans Vado all'entrino Su Facebook E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Ehi tu Sì proprio tu Non puoi chiudere Il video Senza aver messo like E senza condividerlo Non vorrai mica Far arrabbiare Bocco Non sei ancora Iscritto al canale In alto Troverai il nostro Magnifico Trio in versione ridotta Cliccaci sopra E attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà Stranessone idee Ma ti avviserà Non appena Sarà disponibile Un nuovo video In alto Nei due lati Invece Troverai due video Scelti apposta Per te Con le mie zampette Grazie per aver seguito Fino alla fine Ci veniamo Alla prossima